l'altra sera stanno con lui l'amico ah ma guarda il video musica dal vivo a un locale a Londra allora mo Andoni ha mandato su video e ci hanno scritto anche noi musica dal vivo a capestra ah bravo a capestra ah Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.